Di questo coronavirus quando via è mio piccolino e la mia mamma e mio papà e io voglio andare a Torre Petrera Ma questo coronavirus qua via io voglio ritornare dalla mia nonna e mio nonno Da nonna Graciela e da nonno, nonno, come si chiama mio nonno Michele Siamo tanti giocattoli a Torre Petrera, c'è il mio cuccio bello qui e poi come? No, il cuccio bello là e poi in questo coronavirus Io mi arrabbio con questo coronavirus dove viene? Porca miseria qui in the Philippines and this island Ma io è da island di Torre Petrera, è molto vicino, ma questo coronavirus Guarda, è il mio occhio, nonno, guarda le piazze, ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Sì, ma cosa stai facendo? Sì, ma cosa stai facendo?